Amici miei bentornati ancora una volta qui sul canale per un nuovo video e oggi video leggermente diverso dal solito se così possiamo dire perché andiamo a replicare a 360 gradi un video che ho visto sul canale di Andrea Galeazzi quindi sì se volete lo potete dire nei commenti lo stai copiando? Sì lo sto copiando ma perché è un'idea molto intelligente perché potrebbe aiutarvi a prendere le scelte giuste diciamo durante il Black Friday perché non solo vi aggiungerò tramite upgrade trovate il link del canale in descrizione ma in questo video voglio anche consigliarvi e darvi magari un parere leggermente più largo dopo un'esperienza leggermente più lunga dei quelli che sono poi i gadget che utilizzo quotidianamente perché lui effettivamente cosa ha fatto nel video? è andato a far mostrare o comunque vi ha mostrato quelli che sono i gadget che lo utilizza nel quotidiano e vi ha mostrato o comunque ha mostrato quelli che sono i gadget che alla fine ha tenuto tra tutti quelli che effettivamente gli mandano ebbene oggi voglio fare la stessa cosa perché effettivamente anche a me mandano un sacco di prodotti e alcuni li regalo altri li regalo perché sì non vendo niente e altri invece li tengo per utilizzare nel quotidiano e per magari poi anche riconsigliarveli quindi penso sia un video intelligente poi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto tra l'altro ogni tanto se mi vedete fare questo gesto è perché sto vedendo l'inquadratura dall'Apple Watch detto questo perché sto registrando con l'iPhone perché voglio diciamo registrare questo video in maniera molto naturale molto semplice e molto diretta tra l'altro lo vedete sul secondo canale perché appunto è molto leggero e poi lo sapete su questo canale io voglio condividere un po' quello che mi passa per la testa e se una cosa la voglio fare la faccio qui senza troppi pensieri quindi iniziamo subito perché c'è tanto tanto da dire e tanto da mostrare in linea generale sarà un vlog veramente molto diretto tra l'altro qui alle mie spalle vedete dei pacchi super super interessanti che poi vedrete in un unboxing che sta per uscire non so se vedrete prima questo video e poi l'unboxing comunque tanti gadget interessanti e anche il mio nuovo bullet journal così vi spiego anche cosa ho comprato detto questo partiamo e partiamo dalla scrivania dedicata al gaming che tra l'altro sta per aggiornarsi e alcuni dei prodotti che aggiornano questa postazione sono proprio all'interno di questi pacchi ok ma va bene iniziamo subito allora da questa parte che cosa vi posso consegnare in linea generale beh questa va spesso in offerta durante il black friday ed è un'ottima tastiera economica può collegarsi a tre dispositivi contemporaneamente ed è veramente una bomba ragazzi una delle migliori per rapporto di da prezzo per quanto mi riguarda veramente super super interessante bella esteticamente ed è anche disponibile in tanti colori quindi veramente un acquisto da fare se siete alla ricerca di una tastiera compatta e tra l'altro potete collegarla anche a un ipad questa infatti è la postazione che utilizza principalmente il mio fratello e lui cosa fa con il primo tastino si collega al pc con il secondo allo smartphone che attualmente non è qui ma è un iphone 11 pro il mio vecchio iphone 11 pro e col terzo si collega all'ipad mini di quarta generazione perché lui si è ancora vivo per quanto riguarda i prodotti apple ragazzi io non voglio neanche mamma mia che ditate che gli ho fatto vabbè dopo lo pubblico comunque per quanto riguarda i prodotti apple non voglio neanche diciamo andare troppo nel dettaglio perché a volte vanno in offerta a volte no a volte sono un po' vecchiotti però comunque voi seguitemi perché se va qualcosa di interessante in offerta io vi aggiorno Xbox serie S che non penso vada in offerta comunque non penso sia proprio disponibile però questo è un attimino più semplice da diciamo reperire se c'è qualcosina di interessante a riguardo vi aggiorno magari qualche joystick qualche gamepad ve lo vi aggiorno da questa parte qui vedete la stazione di ricarica wireless che utilizziamo di più questa è di Spigen super super interessante economica e veramente molto molto ben fatta poi per il resto quello è un sottobicchiere preso a nikea quindi top questa è una lampada a ok fantastica perché RGB che però purtroppo non potete più reperire su Amazon però se va comunque in offerta qualcosa del genere ve la posso consigliere perché queste lampade sono super super comode soprattutto quelle senza cavo questa è col cavo ma quella senza cavo è una bomba perché potete praticamente portarla dappertutto e per esempio metterla qua sopra e per questo voglio perdere una quando per esempio dovete leggere e fare una cosa del genere una luce tipo da compagnia veramente fantastica da questa parte vedete un po' di cavi i cavi vanno sempre in offerta perché sono cose molto dirette io come marca come brand generale vi consiglio di acquistare sempre prodotti Anker Spigen Anker si comportano molto molto bene Ugreen quello di Ugreen anche va bene però se volete andare sicuri proprio al 100% i prodotti che mi sono piaciuti sempre di più sono quelli di Anker e quelli di Spigen e dopo infatti vi faccio vedere qualche altro prodottino al riguardo queste sono le urbanista che stiamo utilizzando per questo pc e per l'xbox tramite cavo vanno bene e vabbè le urbanista le conoscete ve ne ho parlato anche in un video andiamo verso la mia postazione da questa parte c'è il macbook pro con M1 non penso vada in offerta ma l'ail di solito va e sinceramente molto più leggero molto più comodo ve lo posso consigliare assolutamente se siete a ricerca di un macbook di un portatile efficace buono potente questo potrebbe essere un'ottima ottima soluzione anzi forse una delle migliori lato notebook di solito lo trovate sui 900 euro a quel prezzo è una bomba se ricapita ve lo linko questo qui è il mio ipad pro questa tastiera io l'ho acquistata in offerta bianca è una bomba non si è sporcata ancora tantissimo e adesso ve la faccio vedere perché spesso me lo chiedete vi metto proprio alla luce del sole vi faccio vedere che nonostante l'utilizzo non si è sporcato cioè non ha grossi danni se non qualche cosina qui ma che addirittura in video non si vede tra l'altro io l'ho pulita seppure tolta adesso che ci diciamo faccio caso quindi veramente ottimo per il momento non si è ancora già lì in giallita e per la prima volta questo prodotto si sporca molto meno almeno per quanto riguarda la mia esperienza se sono uno che ci tiene molto ai prodotti eccetera eccetera se ne prende cura si sporca addirittura meno di quelle grigie di quelle nere quindi top se vanno in offerta ve la consiglio poi ipad vabbè se vanno in offerta ve li consiglio sempre perché sono uno dei migliori prodotti in assoluto da questa parte è super interessante perché vanno sempre in offerta SD, Samsung, io mi sono trovato bene ma attualmente ho comprato questa o comunque ultimamente ho comprato questa e ragazzi è una bomba se vanno in offerta ne prendo una anche io ne prendo altre in generale ma ve li consiglio se siete da ricerca di SD queste sono anche abbastanza veloci ottime per il 4K ve li straconsiglio vabbè questo è un adattatore questo qui potrebbe andare in offerta io già l'ho pagato poco se vanno in offerta potrebbe essere veramente non un affare ma di più perché è una USB questa è da 64GB sia USB per l'appunto che micro e vabbè che Type-C è un gadgettino veramente eccezionale soprattutto per ipad o comunque per smartphone anche per mac in generale però per ipad lo reputo veramente ottimo perché piccolo lo portate sempre con voi avete una memoria aggiuntiva soprattutto se avete con me un ipad da 64GB fantastico ragazzi veramente super comodo da questa parte tastiera si è rotta ragazzi il problema è che si è rotta la mia bellissima tastierina e la vorrei cambiare ma non ho il coraggio perché è una bomba se viene offerta un'altra Drevo come questa qui questa è una Drevo Calibur bianca se viene offerta io ne compro assolutamente assolutamente un'altra perché è una delle migliori tastieri che abbia mai provato bellissima abbiamo gli switch marroni da questa parte mi sono trovato benissimo ve la straconsiglio bellissima io la amo da RGB colorata tutto quello che volete non dico troppo perché è troppo bella da questa parte invece mouse Logitech straconsigliato questo sicuramente andrà in offerta se non va a lui e va all'MX Master questo è l'MX3 Anywhere scusatemi MX Anywhere 3 ho un po' un mal di gola scusatemi se avete un po' la voce un po' così particolare ma vabbè comunque MX Anywhere 3 una bomba pazzesca assolutamente uno dei miei migliori acquisti comodo si collega anche lui a tre dispositivi contemporaneamente comunque potete switchare e lo amo lo amo c'è anche il softwareino poi potete gestirlo beh lo conoscete ormai ve ne parlerò poi in una top gadget dedicata alla produttività per quanto riguarda notare le sto preparando una un po' particolare fantastico comunque uno dei migliori in assoluto da questa parte vabbè accessori per smartphone ah questa devo consigliarvela la BenQ Screen Bar Plus potrebbe andare in offerta non lo so ma se va prendetela se siete la ricerca ovviamente di una lampada del genere perché è una delle cose che mi ha rivoluzionato di più la vita il lavoro e in generale proprio l'utilizzo proprio delle lampade perché questa ha veramente senso super minimal ma vi illumina il giusto la postazione e vi rende molto più diciamo comoda e piacevole la vista e in generale vi affatica di meno non lo so perché sinceramente non l'ho studiata al 100% comunque nei dettagli scientifici eccetera però è fantastica funziona bene illumina il giusto è una bomba ve la straconsiglio uno dei miei gadget preferiti costicchia ma se va in offerta è l'affare della vita poi qui non abbiamo più nulla neanche di qua andiamo a vedere magari se sopra ho qualcosina di interessante vabbè qui ho le airpods ma vabbè le conoscete si devo leggere ancora il 10 di Jujutsu Kaisen ma sto aspettando l'11 quindi faccio 10 e 11 e tolgo tutto da questa parte cosa potrebbe essere c'è vabbè cavi batterie questo è ottimo della Tuneit è un caricatore wireless con diciamo l'orario e quindi con una sveglia tipo integrata una cosa del genere che potrebbe essere veramente super super figa vediamo se l'inquadratura è giusta mi si impalla sempre tutto ma vabbè ci sta e per quanto riguarda questo reparto ci siamo adesso andiamo un attimino più nel dettaglio e poi andiamo a vedere anche le fotocamere perché spesso soprattutto le fotocamere di Sony vanno in offerta e potrebbe essere veramente l'affare della vita però prima di continuare io devo assolutamente vedere l'inquadratura perché adesso l'ho messa anche particolare quindi allora eccoci qua dobbiamo un attimino alzarla perfetto così Apple Watch uno dei gadget più belli e fighi del mondo se vai in offerta compratelo se avete un iPhone allora tanto da dire qui vediamo un po' questo no perché ve lo mostrerò e poi non ha senso perché non andrà in offerta se viene offerta già costa poco quindi è inutile questo qui questo eccolo qua è un questo è l'Eco Flex fantastico ragazzi ve ne parlerò proprio sabato se non mi sbaglio ed è un prodotto veramente eccezionale già in offerta sicuramente andrà in offerta sicuramente tutti gli Eco andrà in offerta quelli che vi consiglio sono il Dot quindi quello un attimino più piccolo compatto quello standard e questo qui ve lo posso consigliare perché ha i suoi applicativi non sottovalutatelo ma ha i suoi applicativi e potrebbe essere utile per esempio in bagno se non avete un posto specifico dove piazzare uno di questi anche perché può utilizzare tramite il Bluetooth altre casse quindi collegare a lui una casse e quindi amplificare comunque avere un suono decisamente migliore di un qualsiasi Eco quindi ve lo straconsiglio vi consiglio il Dot e magari lo Show 5 perché mi è piaciuto vorrei acquistarlo tra l'altro quindi non lo so forse ci faccio un pensiero e lo metto sulla postazione vabbè questo nemmeno vi interessa questo neanche vi interessa questo qui questo è questa è una borsa ecco c'era qua della Native Union bomba per iPad c'è anche per Mac fantastica ragazzi uno dei migliori acquisti di sempre per proteggere i vari dispositivi sempre per la protezione dei dispositivi da questa parte ho questa borsa che mi ha regalato in generale Antonio per il Mac questa è della non mi ricordo mai il nome non c'è scritto sulla parte Jettec 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 una cosa del genere comunque è ottimo funziona molto bene protegge veramente bene il dispositivo Moft Moft mi ha anche contattato tra l'altro mi ha detto mi ha diciamo spoilerato un po' di offerte non posso dirvi cosa va cosa non va però ci sono diverse cose interessanti e l'altra cosa che non mi ricordo sono sincero con voi ve l'avrei detto altrimenti non so se va questo in offerta però se ci va e volete un attimino avere una postazione verticale potrebbe essere un'ottima soluzione costicchia però se ben offerta prendetelo perché ne vale la pena poi da questa parte mamma mia scusate comunque è fantastico perché ne potrebbe valere la pena dall'altra parte non mi interessa perché non vorrei consigliarvelo cioè non è una cosa che utilizzo continuamente quindi voglio saltare da questa parte c'è tanto da dire allora abbiamo questo qui questo è un cavetto della Spigen allora è micro usb type c e anche lightning e poi usb fantastico super comodo potete farci di tutto e anche di più potete portare un cavo e fare qualsiasi cosa poi cosa abbiamo più da questa parte cosa abbiamo più da questa parte c'è troppa roba voglio solo darvi i consigli diciamo migliori lato power bank lato power bank andate di anchor perché sono tra i migliori io utilizzo quelli di anchor e quelli di aukey attualmente perché non ne ho altri però anchor sempre al centro del mio cuore anchor non mi paga e non collaboriamo nemmeno mannaccia lei anchor contattami e poi vi facciamo una bella gacchierata no qui non voglio consigliarvi più nulla quindi mi fermo direttamente perché poi tra l'altro abbiamo altri gadget che poi vedrete ma non sono così interessanti perché già costano poco e non sono diciamo da tenere sott'occhio per quanto riguarda il black friday poi nel caso vi aggiorno detto questo adesso ci tocca andare a vedere andare ad analizzare un attimino le fotocamere perché quelle vanno spesso in offerta e sony è una di quelle che ci dà dentro con il black friday quindi vi mostro qualcosa vi mostro qualcosa perché secondo me potrebbe avere senso allora questa qui questa qui è una sony a 6400 spesso va in offerta con il black friday se non va a lei va alla 6300 3 no 3 non può essere 6000 oppure la 6600 non lo so comunque se va un alfa del genere fateci un pezzino se siete a ricerca di una fotocamera perché io mi ci trovo tattico bella qualitativa e fantastica la 6000 è stata la mia prima macchina fotografica seria che mi ha portato anche a portare dei video e iniziare a fare video seri qui su youtube quindi anche quella lì ve la consiglio ancora si se la trovate a un buon prezzo si fuji potrebbe andare in offerta la fuji xt4 nel caso compratela non fatevelo nemmeno dire prendetela perché è una delle mie macchine preferite un po' più complicata rispetto alla sony da utilizzare però vi da tante soddisfazioni e lato foto vabbè anche lato bellissimo in genere compratela poi vabbè obiettivi sony ho sony fuji scusatemi ho sony e sigma ve li consiglio entrambi quello lì vi posso aggiornare altro gadget interessante per smartphone questo qui è uno stabilizzatore per iphone eccolo qua della ziyun questo è lo ziyun q3 si smooth q3 eccolo qua ed è fantastico già costo a poco se va in offerta non fatevelo dire nemmeno una volta compratelo perché voi direte ma come l'iphone o qualsiasi altro smartphone adesso ha un'ottima stabilizzazione si avete ragione però con questo fate magie veramente riuscire a fare delle cose pazzesche e prossimamente ci sarà un video al riguardo ma ci concentreremo anche su una cosa ancora più professional ancora più figa quindi voi seguitemi che vi aggiorno vabbè poi qui ho manga cose che magari non interessano e non penso vadano in offerta zaini zaini forse qualcosina di interessante ce l'ho vi posso consigliare questo qui perdonatemi non so che cosa stavate vedendo vabbè questo qui della della pick design e basta pick design perché poi native union non penso gli altri altre marche che utilizzo come manfrotto di solito vanno ma sono molto diciamo specifiche per quanto riguarda le cuffie true wireless attenzione non so diciamo se effettivamente vanno in offerta non so nemmeno le percentuali di probabilità ma se le riesco a prendere perché le ho nella borsa della palestra queste qui le sto utilizzando tantissimo ragazzi mi stanno piacendo troppo e per la palestra sono fantastiche perché? perché hanno il tastino ve lo dico in ogni video mi stanno piacendo mi stanno piacendo troppo bomba nulla sono le migliori per me sono le migliori attualmente perché mi piace mi piace il sound per la palestra è un qualcosa di ottimo ma io dico sempre per la palestra ma non è che poi le potete utilizzare solo la palestra perché per il resto fan cagare no è che diciamo lì si esprimono al meglio per il resto cosa vi potrei consigliare più per quanto riguarda le cuffie ce ne sono tantissime queste qui della black view ottime anche queste qui cosa abbiamo più abbiamo queste qui queste real me air 2 mamma mia eccezionali le migliori cuffie in assoluto per rapporto qualità prezzo ve le straconsiglio le provo le utilizzo non dico quotidianamente ma spesso perché mi piacciono mi piacciono veramente tanto hanno tutto riduzione attiva che forse sì non è eccezionale però comunque ce l'hanno hanno un ottimo sound un'ottima batteria e riescono a fare praticamente tutto e diciamo anche la latenza è praticamente inesistente è veramente qualcosa di eccezionale lato cuffie ci sono questi urbanisti che devo raccontarvi in un video piccolissime non in ear comodissime non hanno forse il sound migliore del mondo ma sono fantastiche Xiaomi vabbè Xiaomi e cosa abbiamo da questa parte le Ugreen che pure sono interessanti ma vabbè di queste poi ne parliamo tra l'altro c'è anche un video sul canale principale se volete potete dargli un'occhiata lì Oxo questi gadget potete acquistarli se siete ricercati gadget per pulire i vostri dispositivi potrebbe essere una soluzione se vanno in offerta e stop ci siamo Bosco C35 non ve le mostro ma se vanno in offerta ve le condivido e se le condivido e siete ricercati un paio di cuffie serie belle compratele non fatemelo dire e nulla ragazzi nulla mi fermo così SSD attenzione SSD abbiamo quelli della Licee e quelli Sandisk i Sandisk sono i classici non ve li mostro quelli della Licee eccolo qui mi sono trovato bene ma quelli Sandisk e quelli anche Samsung che ancora non ho comprato ma perché proprio sto aspettando il Black Friday perché devo assolutamente comprarli perché ho finito memoria dappertutto ho finito 500 500 250 devo prenderne almeno uno da un tera ma vabbè sono fantastici quelli di fantastici quelli di Samsung e anche quelli di Licee si dice così non lo so ma quelli di Sandisk anche vabbè lo stacco un attimo ve lo faccio vedere perché non si può mai sapere magari volete saperlo con più precisione io lo utilizzo quotidianamente è una bomba ragazzi veramente eccezionale abbastanza diciamo duro a morire in un certo senso è una bomba mi piace veramente tanto 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 detto questo io vi ringrazio per la visione video un attimino più lungo ma ci sta perché volevo parlarvi un po' di cose nulla ci vediamo prossimamente vi aggiornerò su tutte le offerte migliori su upgrade mi raccomando dateci dentro e con i mi piace i video like eccetera eccetera un bacione abbraccio da Giovanni è tutto buona giornata io vado a lavorare e registrare l'unboxing ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.